ok il nome sbampa ha una bella storia dietro partendo dall'inizio di questa storia è un nome che va a fare onore a mio padre perché quando era ragazzino sui 16 17 anni ci sta un'usanza qua al nostro paese che si fa comunque il fuoco di natale durante questo fuoco di natale mio padre stava buttando olio vecchio per dare ancora più fuoco per alimentarlo un amico dall'altro lato lanciava le bombette c'è stata questa sbampata che ha preso mio padre in pieno e si è bruciato tutto quanto da lì è nato il soprannome di mio padre che appunto sbampa ovviamente poi con gli anni mio padre ha avuto me nel nostro paese mi hanno sempre chiamato sbampino 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 e il nome su instagram appunto sbampino e da lì poi ho detto vabbè a cazzo io mi chiamo sbampa e da qua è nato il nome d'arte ok sì bella domanda il viola perché allora diciamo che adesso il viola è un colore che viene associato al genere trap non è per questo motivo ma perché sono sempre stato patito di associare un determinato colore a una banda come per esempio ci stanno in america i creeps che hanno blu il blots che hanno il rosso e quando ero piccolo giocavo a un gioco che conosce tutto il mondo che è GTA San Andreas dove ci stava la banda rivale del protagonista che erano appunto i ballas che portavano il colore viola da qui io sono sempre stato fissato con sta banda rivale ballas il viola per questo motivo porto il viola come colore non ho progetti futuri esempio un disco un EP per adesso però posso dirvi che mi sto concentrando principalmente sul prossimo pezzo sarà un fit bello